Gaspare, il ventennio dal 1956 al 1978 ha segnato una storia bellissima che a volte quando la raccontiamo io dico che è talmente emozionante che in certi momenti, posso dire anche commoventi in qualche occasione, in qualche passaggio, però quello che ci interessava sapere era capire il dopo 1978, cosa ti ha lasciato l'esperienza del caso Micizio? Ecco, allora come effetti diciamo mirabolanti, unici e irripetibili, ecco, invece dal lato ricerca, dal lato cammino mio personale e di mia moglie, ci ha lasciato molto perché prima che finisse il tutto, uno di loro, a me e a mia moglie, ci ha detto cercatevi un maestro, il che non abbiamo fatto subito perché un po' stanchi, poi la storia dei guru, così, era una ricerca che non faceva parte di noi. In che anno siamo ad esempio quando è venuta a galla questa cosa, ti ricordi? Beh, siamo appunto, fino al 78, guarda, sono passati parecchi anni fino a che quasi inadvertitamente, quasi non ci ricordavamo di questo invito di cercarci un maestro, per una combinazione di cose che non sto qui a dire, cose normali, comunque non casuali, per caso, siamo venuti a conoscenza di Osho, sia io che mia moglie, si sono fatti discepoli di Osho, dopodiché, dopo quando ci ha dato l'iniziazione, ecco, questa sembra fantascienza. Quindi l'hai conosciuto anche di persona Osho. Sì, questo sembra fantascienza, ma ci siamo detti, ce l'avevano detto di cercarci un maestro. Ecco, sembra incredibile questa, ha più fantascienza questa. E hai conosciuto un maestro di altissimo livello. Quindi con Osho è continuato un cammino con delle tecnologie di meditazione che loro non dovevano neanche darci, non erano compiti loro. Quindi era un compito molto terrestre questo. Ecco, poi abbiamo scoperto che il dire di Osho con una percentuale che è utile sta qui a sorpresare, però per quanto riguarda l'aldilà, quello che noi chiamiamo Dio, era molto simile a quello che ci dicevano loro. Ok. Ecco, a parte il fatto che Osho poi ha parlato di loro. Però c'è stato un periodo che appunto siamo stati io e mia moglie presi totalmente da Osho. abbiamo cominciato a meditare seriamente, il che ci ha fatto molto bene perché ci siamo accorti che la meditazione fa bene. Fa bene. Fa bene. Il corpo e lo spirito. Sì. E verso circa un dodici anni fa, quando è uscito il libro di Breccia, Contattismi di Massa, io l'ho visto. Io non conoscevo Breccia perché non faceva parte di noi. Certo. Ecco. E gli ho scritto, gli ho scritto, siccome lui sul suo libro mi nominava anche, gli ho detto io sono Gasperi dell'Amo, oh caro Gasperi ci siamo conosciuti, siamo diventati ottimi amici. E Breccia ormai si era esposto e io ho detto ma devo espormi anch'io o no? Mi sono chiesto. E ho detto ma è un patrimonio di cose che so, che ho visto, che mi hanno detto, importanti più o meno, ma viene tutto da loro, perché non dirle, perché non farne partecipi tutti? E allora ho detto a Breccia che ero disposto e da lì ho cominciato a… Tocca meno di divulgazione. Ecco, faccio un piccolo esempio che non è l'unico, poi rare volte si è ripetuto in casa mia. Io ero lì che pensavo ma mi devo esporre o no? Faccio bene, so parlare, quello che ho visto io sono cose poi così interessanti, cosa devo fare? Mentre pensavo queste cose un oggetto della stanza è andato da un posto all'altro, da solo, siccome io questi movimenti li avevo già visti. Già visti in passato. Ho capito che era un sì. È un segnale. L'ho ringraziato e ho detto lo faccio e mi sono esposto, ecco. E di queste cose sono successe a varie volte, ma qualche conferma… È arrivata. Ecco, cioè penso che, non so se con occhi benevoli o no, se faccio bene o no, ma mi guardino un po', ecco. Però ho capito anche che guardano ognuno di noi, eh. Sì. Sulla scorta di quello che stai dicendo, si potrebbe parlare di una coscienza universale dalla quale noi attingiamo le informazioni? Certo. Quindi non esiste un luogo ben definito, ma è un qualcosa di… Sì. A la portata di… a disposizione di tutti? Io credo che sanno tutto di noi, più di quello che sappiamo noi. perché credo che se hanno i mezzi… parlo dei mezzi tecnologici, non prendiamo i permaghi o paranormali, hanno dei mezzi tecnologici per cui credo che sappiano leggere più profondamente nel nostro inconscio che noi stessi. Certo. Penso. Ecco. Sanno quello che facciamo. A me è andata la dimostrazione che sapevano quello che avrebbe fatto un animale. Addirittura. Ecco, poi certe volte si apriva la radiolina che avevo e io ero lì così che mi grattavo la testa e mi sentivo dire, Gasper cambia pensieri. Proprio in quei momenti che era bene che io cambiasse. Cambiasi il pensiero perché stavi andando. Poi se vogliono tirare su uno di noi in un'astronave ci portano su… ma quello che mi sembra di capire dai vari contattisti di cui so ci prelevano col corpo astrale perché non avendo il sistema nervoso non ci spaventiamo. riferiamo freddamente quello che ci hanno detto, quello che abbiamo visto, invece col sistema nervoso aumenteremo. Invece, ecco, allora, una tecnologia che sa cavare dai tuoi corpi, quello astrale, poi tu lo rimetti nel corpo. C'è una tecnologia alla quale… secondo te noi non saremo in grado a breve di vedere queste cose, insomma. Per finire questo discorso, io quando ho visto certe loro cose mi sono detto che onestà, mi hanno detto non siamo né perfetti né infallibili e con quello che mi fanno vedere se mi dicessero che sono Dio o l'Arcangelo Gabriele io ci avrei creduto. Certo. Ecco, quindi sono di un'onestà. Di un'onestà, di una purezza tale che… Devevano farsi passare per Dio, ma ce la incucavano subito. Certo, certo, certo. Beh, probabilmente si sono avvicinati a persone che hanno anche una sensibilità particolare. Cioè, questo forse non è per tutti. O forse nella preistoria erano considerati degli dèi perché appunto facevano delle cose che erano magiche. Oggi con la consapevolezza… Oppure li hanno presi per gli dèi ed era un bene lasciar pensare così. Che fosse così. Sai, la sanno più lunga di noi, eh. Una cosa che ti volevo chiedere, legata al fatto che oggi sempre di più se ne parla anche delle grandi potenze e di personaggi che hanno collaborato con le grandi potenze che stanno, diciamo, rilasciando informazioni. Quindi siamo nell'era della… non della rivelazione, cioè non della velatura due volte, ma del fatto di dover svelare realmente quello che sta accadendo nel mondo e quello che è accaduto. Secondo te ci sarà a breve un'apertura tale per cui anche l'uomo sarà in grado di accettare con molta tranquillità come hai fatto tu un insegnamento di questi maestri? Io penso di sì. Non so quantificare il tempo, gli anni. Cioè, io mi metto anche nei loro panni. Ma pensa i grattaccapi, le preoccupazioni che hanno dovendo svelarsi, scendere e una volta giù qui cambia tutto, obbligatoriamente. Il meglio, ma cambia tutto. Quindi tutta la gente dirà a loro c'è un Dio, cosa credete? Di conseguenza c'è un balto di vedute e una caduta di quasi tutte le religioni terrestri. Chiaro. Allora, ci sono milioni e milioni di persone in buona fede che si stanno realizzando attraverso il buddismo, attraverso il cattolicesimo. Pensa a togliere sotto i piedi di queste persone che si stanno realizzando il terreno. Ma pensa alle preoccupazioni. Lasciamo stare quelle materiali, economiche. Ma solo a questo. Il credo verrebbe a meno. Ma è una preoccupazione non da poco. Non da poco. Quindi secondo te loro ci sono posti questo... Ma... Questo... Che poi è un dilemma anche probabilmente. Che lo sono posto io, voglio che non se lo siano posti loro. Certo. Quindi è un'attenzione in più che hanno nei nostri confronti. Io mi sono posto questo problema. Poi chissà quanti non riesco a vedere e che ci sono. Certo. Per cui... Ecco perché anni e anni e anni, lustri e lustri e forse secoli che ci sono qui e vanno con i piedi di piombo. Perché è una cosa non facile. Non è facile. Ecco. Poi se questo... Si sono immedesimati in noi? Si sono resi umani? Diciamo in un certo quel modo, no? No, credo che abbiano... Avendo fatto anche la stessa trafila per altri pianeti simili alla Terra. Ah, ok. Hanno anche un'esperienza in questo campo. Per cui sanno che se spingono le cose troppo così, il pianeta... Se vedono leggermente il nostro libro del vitrio, cosa succede? Come per altri pianeti, questo me lo hanno detto loro, dei loro errori, rari, ma i loro errori, hanno secoli e secoli e secoli fa hanno sbagliato. Non siamo né perfetti né infallibili, hanno calcato un po' troppo la mano sul libro del vitrio, pensando che era giusto il momento di farlo. L'umanità, diciamo, che era stata contattata, ha fatto un balzo improvviso di evoluzione in meglio. Poi, dovendo proseguire con le proprie forze e trovandosi di fronte a nuovi passi da superare, avendo fatto un cammino fasullo, anche se breve, ma non reale, non creato da noi, è crollato tutto. Ecco, per cui, per farci fare un piccolo salto e poi che crolli tutto, ecco. Allora, hanno pensato bene di dover... Hanno una bella responsabilità, ok. La Terra è molto importante per loro? Cioè, che importanza ha il nostro pianeta a livello galattico? Dunque, a livello umano, penso che abbia l'importanza di tutti i pianeti abitati. A livello pianeta, tutto è animato, tutto è vita. Anche i pianeti sono vita, hanno un'anima, tanto per intenderci. Il pianeta Terra, così mi hanno detto, è uno dei pianeti rari. rari, tra virgolette, perché poi la galassia, ha detto dei nostri scienziati astrofisici, quindi PD per Terra, quello che hanno detto la nostra scienza, finora nel nostro universo hanno contato, tra virgolette, ipotizzato, 22 miliardi di galassie. Figuri di pianeti che ci sono. Per cui, anche se il pianeta Terra è un pianeta raro, per una certa faccenda, che adesso dirò, non è più raro di fronte a queste cinque. A tutti questi numeri che sono veramente grandissimi. Però la percentuale è, non so, uno su mille come la Terra, uno su cento, uno su diecimila, non lo so. Però la Terra ha una particolarità, che è un pianeta che non dà, come tutti gli altri che hanno vita, solo la vegetazione e gli animali. dà anche l'uomo. L'uomo nasce dalla Terra, vabbè, dal mare, ma nasce da... È proprio il pianeta che fa... Sono rari i pianeti... Nei quali si è dato... Quindi è un pianeta che dà l'uomo, che è la massima espressione... Ecco. Vivente. Vivente, ecco. Tutto ha un'anima, anche quella fornitina lì ha un'anima. Certo, certo, il sasso ha un'anima, via tutto. Però l'uomo è la massima espressione di un contenitore d'anima dei pianeti. Dopo l'uomo può diventare un superuomo, può diventare un angio, può diventare un dio, ma... Ecco. Generato dalla madre Terra. La Terra, molti pianeti danno gli animali, la vegetazione e non danno l'uomo. La Terra è uno dei pochi, diciamo pochi in maniera un po' così... A livello di numeri, i numeri che ci sono, comunque siamo abbastanza rari, insomma, diciamo. Siamo per loro un pianeta... Importante. Importante. Non vorrei dire la parola sacro, perché è tutto sacro. Certo. Però molto importante. Senti Gasper, per chiudere, perché la chiacchierata è piacevolissima, mi piaceva terminare pensando anche a questa domanda da farti, cioè, visto che tutto è catastrofismo sulla Terra, perché tutto vediamo l'economia, ci alziamo la mattina con i telegiornali e la stampa che parlano dello spread che è andato chissà dove, che la guerra economica è imminente, la caduta, le liti, le guerre fisiche che ci sono, ma di positivo c'è ben poco. Io invece, personalmente, penso invece che ci sia un futuro bello per la Terra. Questo possiamo anticipare qualcosa? Possiamo dire se ci sono stati dei segnali in seno a questo argomento? Dunque, guarda, è questione di fiducia. La parola fiducia c'è sul dizionario. E quando la diamo? A chi la diamo? A quel momento bisogna dare fiducia all'esistenza. Allora, in questo momento la Terra apparentemente è orrenda, quello che succede. Però, appunto, perché è brutto, c'è una reazione. Il brutto serve a una reazione. Ci sono tante profezie. Le profezie sono tutte in negativo. Ma le profezie sono tutte in negativo calcolando che noi si continui così. Invece sta in noi cambiare. Cioè, la profezia ci deve... Proprio ribaltare la profezia. Quindi deve darci lo sprono per cambiare. Ecco, è difficile avere un metro dell'amore del pianeta Terra. Loro ce l'hanno, una specie di termometro, come noi lo mettiamo in tutta la scella. Non so come è fatto, ma loro sanno il peso specifico di questo pianeta. E degli eventi che sanno. Amore è una parola troppo grossa. Il fatto di positività. Mettiamola così. Se questo termometro arriva a una certa quota, loro possono forzare la mano e non ledere il nostro arbitrio, ma fare molto di più. Io penso, anche guardando i nostri capi di Stato, Trump, quello cinese, Xi, Pin, quello che è, faccia di cane, io sul bottone più grosso del mio, cose da guerra imminente, poi si abbracciano. E uno non si spiega il perché. Siamo un po' pazzi. Ecco, allora la mia domanda è questa. Se siamo pazzi e basta, io penso che è fatta, ci salvano. Se siamo pazzi scemi... E quindi non andiamo a distruggere il pianeta. Se siamo pazzi scemi, allora siamo... è finita. Non lo so, io non ho il termometro del pianeta. Però dobbiamo, io, te, chi ci ascolta, l'operatore, cerchiamo di pensare positivamente, perché mandiamo in giro positivi. Il pensiero è positivo. C'era Giovanotti che lo diceva. Io spero che ce lo facciamo, così. Quindi la ricetta di casa nostra è questa. Poi un po' di aiuti ci arriveranno, ma la ricetta in fondo è questa qua, quella di spingere nella positività. Oddio, singolarmente che il pianeta scompaia o continua a vivere, per noi singolarmente è la stessa cosa. Morire con una bomba atomica sulla fontanella o sotto un tram è la stessa cosa per il nostro camion. E quello che mi rincresce è a me che questa terra che pare che sia uno dei pianeti più belli, con tutti i tesori che abbiamo, le pitture, i louvri, le cose magnifiche che abbiamo fatto, le musica, tutto a catafascio così, per cretineria. Certo. Speriamo che ci mettano veramente una mano e non arrivi la pazzia. Ecco, la pazzia scema. Scema, proprio. Una pazzia geniale, va bene. Ci sta. Anzi, magari da qualche pazzo è genio, è uscito chissà, ne abbiamo tanti che ci hanno dato anche delle belle emozioni. Scemo no. Scemo no. Grazie Gaspari della chiacchierata e grazie a tutti i nostri followers, quelli di Spazio Tese e del gruppo UFO Cremona. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.